Mentre il clima natalizio va avanti ci prepariamo a sognare sulla nostra panchina lo facciamo in compagnia di un flauto magico ed è così che invito a prendere posto sull'EDP Alessandro da Merini del Teatro della Tosse. Dovete sapere che lui è il fil rouge, il filo che unisce proprio tutti e tutte le parti della storia del flauto magico. Ciao Alessandro, ciao Erika, ciao a tutti. Ti riconsegno quindi il testimone magico, parliamo del flauto magico perché? Perché presto sarete in scena. Esatto, saremo in scena dal 16 al 20 e saranno repliche sia di mattina per le scuole che sera lì pomeridiana, e naturalmente la domenica sarà pomeridiana. È uno spettacolo della storica premiata ditta Cereseto Luzzati che ha praticamente, ci è stata passata proprio come un testimone e quindi noi siamo orgogliosi di poter continuare questa tradizione strepitosa. Appunto sarò il fil rouge come hai detto tu, nel senso che farò delle piccole introduzioni fra un atto e l'altro, parliamo del suo auto magico, dell'opera di Mozart che in realtà è una storia antica, araba e quindi che poi è stata rimaneggiata appunto dal famoso compositore e sarà non solo uno spettacolo di burattini di livello estremamente alto, ma uno spettacolo vero e proprio cantato dal vivo, da Linda Campanella e Matteo Peirone che saranno con noi i nostri interpreti e poi abbiamo appunto anche un'orchestra dal vivo, insomma un piano forte, un violoncello e flauto. Un flauto quindi molto magico da non perdere nella magia dei burattini di Bruno Cereseto che però tra l'altro tu Alessandro insegnerai poi ai bambini a fare. Sì, avrò appunto l'opportunità di insegnare rapidamente un abbozzo di burattino in stile Cereseto e con i materiali di recupero. Quindi magari la prossima volta ti invitiamo in panchina con qualche materiale di recupero che troviamo qua in giro ai Giardini Luzzati e ci fai vedere in 4-4-8 come possiamo mettere insieme un burattino. In chiusura però Alessandro ti devo chiedere un consiglio letterario. Allora il consiglio letterario che vi propongo è Molto forte e incredibilmente vicino di Jonathan Safran Foer che è un libro veramente straordinario che parla di un ragazzino che ha perso suo padre durante l'attentato dell'11 settembre e che per una serie di eventi comincia una ricerca di una chiave che probabilmente deve aprire qualcosa, chiave forse chiave di lettura della vita vera e propria e della speranza di trovare una soluzione. Non è solo questo naturalmente, è molto più profondo. Consiglio più che mai attuale quindi direi più che mai in tema purtroppo con quello che è accaduto anche negli ultimi tempi. Grazie ad Alessandro, buon flauto magico. Grazie mille Erika, grazie a voi.